Ciao, vicino! Vuoi che... vuoi qua ma conosce? Non ci vuole! Vuoi un po' di pizza? Cos'è che facciamo? Proviamo ad entrare da qua, spostati leggermente che... Vai! Ah! Adesso... Stupido! Stupido! Così? Qua non c'è! Guarda! 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 Puoi prendere! Sì, sì. Non è questa, torniamo con questa, no, e no, non va, allora scendiamo. Ok, vai tu, c'è, vai, vai, accendi la noce. Ma guarda qui c'è qualcosa, è quello qua, ho trovato una chiave magnetica, è un piede, è un binocolo, magari ci scoprirà per qualcosa. Hai trovato qualcosa, c'è una chiave, è nascosta o vuol dire che qualcosa da lì in portaggio? Ci sono fatti, 3, 2, 1, apri. Cos'è sta roba? Questo è un cadavere, qua c'è pure una pistola. È pure stato... C'è pure delle taranto. C'è pure delle taranto. Ah! C'è pure delle taranto. Ah! 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 Grazie per la visione!